Ciao Salvo, all'ora d'è deciso, ma stai pensando ancora, e guardatelo poco, come dì tutti per lei. Gianni, come faccio a m'ascutare? Non so che significato d'è questa parola, è una che passa sempre il stesso, senza significato, da quando non c'è più lei. E' per lei che non riposo più, e sto male che mi sento giù, e per lei che mi so chiuso in casa e non esco più. Lei mi manca che ci pazzo fa, vivo questa vita per metà, non riesco appena innamorarmi, amo solo lei. Ma perché tu non la puoi scurata? Lei l'ha fatta con facilità, non mi importa niente se perché, tu mi dici per me fai scurata, io devo agliare solo, non devo pensare. Ma io amo lei, e so sicuro che torna a tu me, pure si può già vivere speranza, io voglio lei vicina a me. Tante non sono mai se non è lei, come la faccio non ne ha stessa pace, sono tutte diverse, io voglio lei, io amo lei, io amo lei, e so sicuro che torna a tu me. E se decine insieme con me, e a me ci appigliano non avvene, e se incontrò fa buono favore, tu non ne ha buonarezzatana. La paura è proprio che stacca, ci bastare la vera e si incontrò, che il sogore mi d'arezza a piedi e chi mi può acconciare. Io amo lei, e so sicuro che torna a tu me, pur si può già vivere speranza, io voglio lei vicina a me. E so sicuro che torna a tu me, e so sicuro che torna a tu me, e so sicuro che torna a tu me, e so sicuro che torna a tu me. Tante non sono mai se non è lei, come la faccio non ne ha stessa pace, sono tutte diverse, io voglio lei, io amo lei. E so sicuro che torna a tu me, e so sicuro che torna a tu me. Grazie a tutti